Ramadu, ho sentito qualcosa nel mio orecchio? Ok, allora buonasera a tutti, buonasera ragazzi, buonasera colleghi. Oggi siamo riuniti qui in videoconferenza per partecipare a un evento. Oggi 5 novembre 2020 in tutta Italia praticamente c'è la promozione della cultura economica. Quindi noi anche nel nostro piccolo e per la prima volta abbiamo voluto partecipare con le nostre classi insieme alle docenti Caratelli, Cucchiarelli, De Santis e Balestra con le classi Quarta FM e Quarta Bissia ad un'intervista, un'intervista molto speciale con un esponente molto importante e molto speciale di Lega Ambiente. Benvenuto Alessio, grazie per essere qui con noi, è un vero piacere. So che ci racconterai cose molto importanti, molto interessanti che spero potremo condividere insieme ai ragazzi e con Lega Ambiente in futuro per i nostri PCTO. Quindi lasciamo a questo punto la parola ai nostri ragazzi che hanno organizzato, hanno preparato tutto da soli insomma questo evento e saranno loro a chiederti e a farti un po' di domande. Quindi a loro la parola, grazie. Grazie mille, in realtà il piacere è tutto mio, sono molto felice di incontrarvi perché ho sentito molto parlare di voi. Quindi finalmente do anche qualche volto ai discorsi che sono stati fatti già in passato con le vostre insegnanti. Quindi sono a vostra disposizione. Allora, in occasione della seconda edizione della giornata nazionale Le Rete Item, abbiamo voluto organizzare un'intervista a noi alunni insieme ai nostri docenti dell'Istituto Massimiliano Ramadù Cisterna di Latina al coordinatore progetto ECO, Ufficio Economia Civile delle Cambienti, il signor Alessio D'Addezio, che salutiamo e ringraziamo. La felicità dell'intervista è quella di comprendere come utilizzare all'interno del nostro indirizzo di studi alcuni progetti messi in atto dalle Cambienti. Iniziamo con le domande e lascio la parola a Sofia. Buonasera. La prima domanda è che cos'è Le Cambienti? Allora, Le Cambienti è un'associazione senza fini di lucro, quindi è una cosiddetta associazione del terzo settore o no profit che è fatta da cittadini e cittadine, quindi come voi e come noi, che hanno a cuore la tutela dell'ambiente in tutte le sue forme. In generale si batte per una maggiore qualità della vita, una società più giusta, più equa e soprattutto più solidale. È un'associazione che ha 40 anni, quindi in realtà potrebbe essere quasi un genitore di ragazzi della vostra età, quindi è un'associazione di grande esperienza che nasce sulla scia dei movimenti ecologisti degli anni 80 quando una delle emergenze che ci ha riguardati era quella di Chernobyl. Io ero piccolino e me la ricordo con una grande emergenza che in qualche modo ha cambiato anche la nostra percezione dell'ambiente. Ecco, da lì è partita questa avventura di lega ambiente che ha portato anche alla risoluzione, alla vittoria di diverse battaglie negli anni e quindi mi fa molto piacere rappresentare l'associazione, soprattutto perché si sta popolando sempre più di giovani e quindi visto che voi siete nativi digitali ma siete anche e soprattutto nativi ecologisti, sono felice di essere qui per ricordarvelo. Quindi intanto grazie, grazie ancora. Grazie a lei. Allora andiamo avanti con la seconda domanda. Fabio. Ok, Fabio non c'è, quindi Simone. Simone, domande facili, mi raccomando. Buonasera, le volevo chiedere se questo progetto è presente nel nostro territorio giovane. Allora, il progetto ECCO, di cui parlava la vostra compagna all'inizio, è un progetto che non è presente sul territorio di Cisterna, giusto? Che è il vostro territorio di riferimento, però è presente in quei pressi, diciamo, vicino a Latina, è presente un nostro circolo, che è il circolo arcobaleno, che non ha aderito formalmente al progetto ECCO, ma che speriamo poi possa entrare un po' più nelle maglie del progetto per partecipare attivamente. Comunque è un progetto nazionale, quindi c'è spazio per tutti e c'è spazio anche naturalmente per le scuole come la vostra. Quindi il mio invito è quello di connettervi poi in futuro, e io cercherò di facilitarvi in questo, di connettervi al circolo territoriale di lega ambiente, che per ritornare anche alla domanda precedente, è un'associazione che ha circoli praticamente in tutta Italia, da nord a sud, isole comprese. Quindi è una delle associazioni ambientaliste, forse l'associazione ambientalista più diffusa sul territorio italiano in assoluto. Quindi, diciamo, non siamo ancora presenti con il progetto ECCO, ma anche grazie a voi magari lo saremo in futuro. Va benissimo, vai Simone con la prossima. Le volevo chiedere se può raccontarci del progetto ECCO. Come no? Allora, il progetto ECCO è un acronimo che significa Economie Circolari di Comunità, ed è un progetto che cerca di unire le tematiche ambientali, quindi il tema della sostenibilità, con il tema dell'inclusione sociale. Perché c'è grande bisogno, soprattutto oggi, che viviamo un momento molto complesso per il nostro paese, c'è grandissimo bisogno di contenere le marginalità, contenere le fragilità delle persone, e soprattutto accogliere le persone più fragili all'interno di una famiglia. Diciamo che legambiente, in questo senso, la possiamo rappresentare anche come una famiglia, quindi l'obiettivo principale del progetto ECCO è quello di fondere, in qualche modo, il tema dell'ambiente con il tema dell'inclusione sociale, tant'è che abbiamo coniato anche un termine nuovo, che è quello di inclusione circolare, proprio per rendere ancora più evidente il connubio tra l'economia circolare, soprattutto, e inclusione sociale, ed è un progetto che vede coinvolti 15 territori italiani, quindi 15 circoli della Lega Ambiente, o circoli territoriali o circoli regionali, proprio per promuovere la nostra idea di economia circolare, e raccontare anche un po' quello che Lega Ambiente fa nei diversi contesti. Quindi questo un po' in breve. Vai Alessio, lasciamo la parola a te. Buonasera, e volevo chiedere, cosa sono... Sperimenti per la scelta, ottima scelta. Vai, vai. Grazie. Cosa sono l'economia civile e l'economia circolare? Allora, cercherò di farvela, scusate, di farvela molto semplice. Diciamo che l'economia, ecco, visto che voi studiate economia, l'economia che si studia a scuola è in linea di massima, ma questo non è il vostro caso, perché anzi, state cercando di approfondire anche dei temi che vanno un po' fuori dal curriculo scolastico. L'economia civile è la cosiddetta economia della felicità, che è un termine che viene cognato da Antonio Genovesi, che forse conoscete perché è il fondatore della prima cattedra di economia istituita al mondo. Lui l'ha istituita, era un prete, un sacerdote, l'ha istituita a Napoli. Ed è un'economia che guarda la felicità della collettività. Quindi è una, diciamo, diffonde una prospettiva culturale di un'economia che non è l'economia lineare, diciamo l'economia di mercato, ma che mette al centro i principi di reciprocità e fraternità. Quindi è proprio l'economia, in qualche modo, che si contrappone a quella capitalistica, che molto spesso si studia. Io ho frequentato un istituto come il vostro, quindi ho studiato male e poco l'economia, che in qualche modo è contrapposta a questo. Mentre l'economia circolare è anche questa, assolutamente in contrapposizione con l'economia lineare, nella quale, sostanzialmente, come funziona? Si prendono risorse, si produce un oggetto, si utilizza e poi si getta. Ecco, per farvela molto, molto semplice, l'economia circolare è quella che non si ferma al concetto di rifiuto, ma che utilizza anche i beni a fine vita, reimmettendoli all'interno di un circuito produttivo. Quindi, nell'economia circolare, i prodotti, già dall'ideazione, quindi un qualunque bene, già dalla fase di produzione, viene pensato come qualcosa che poi si possa riutilizzare più volte, riparare, e quindi significa questo ridurre anche i costi energetici che sono alla base della produzione. Quindi, in qualche modo, va a vedere tutto il ciclo di vita del prodotto e quindi lo pensa già per essere rigenerato alla fine del ciclo di vita. Sostanzialmente si chiama circolare perché c'è un circuito sostanzialmente che reimette in continuazione quel bene nel circuito produttivo e di consumo. L'ho spiegata a dei futuri economisti un po' così, ma spero di essere stato sufficientemente chiaro. Quindi, in qualche modo, il fatto di scoprire queste due forme di economia, quindi l'economia civile e l'economia circolare, ci apre la mente rispetto a quello che può essere un nuovo paradigma economico, che però si rifà a qualcosa di molto vecchio perché i vostri nonni o bisnonni, per chi è fortunato, praticavano l'economia circolare, nel senso non buttavano via nulla, quindi rimettevano nel circuito tutto. Poi c'è stato il boom economico e allora da lì si sono perse un po' delle abitudini che in questo momento si stanno cercando di recuperare, anche grazie al lavoro che fa l'Ecambiente, ma anche al lavoro di scoperta che state facendo voi in questo caso. Quindi sono sicuro che voi praticherete l'economia circolare molto più di quanto avrei potuto fare io alla vostra età e la conoscerete soprattutto. Spero di aver risposto, Alessio. Certo, certo. Andiamo avanti con Miriana. Sì, allora, l'economia circolare può aiutarci a rilanciare il territorio in modo sostenibile? Sì, 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 assolutamente. Anche perché ci sono diverse forme, nel progetto Eccolo e raccontiamo, diverse forme di lavoro, quindi delle opportunità di occupazione che provengono proprio dal mondo dell'economia circolare. Da una parte provengono rispetto a delle, come dire, a delle caratteristiche piuttosto alte anche a livello di competenze che si possiedono. Quindi in alcuni casi l'economia circolare riesce a offrire delle opportunità soprattutto a persone che hanno un'alta specializzazione in alcuni campi. Pensate per esempio a chi si occupa di fotovoltaico, di eolico, quindi di energie rinnovabili e ha una formazione specifica. Quindi parlo soprattutto di professionalità molto tecnica, altamente tecnica. Però l'economia circolare ha anche, per esempio, la piccola bottecuccia che fa riparazione. Quindi anche quella lo è. Aspettate. Scusate, ho la finestra aperta. Mi ammalo proprio perché non ho 20 anni. Allora, dicevo, anche per professioni molto, molto più semplici, se vogliamo, l'economia circolare si sta rivelando una grande opportunità. Pensate per esempio al calzolaio. Il calzolaio tradizionalmente non viene riconosciuto come una professione dell'economia circolare oppure una professione verde, il green job, ma invece nell'artigianalità e nel fatto di recuperare molto spesso i beni che vengono lavorati proprio all'interno di una bottega, ecco, quella è economia circolare. Quindi nel nostro sguardo oggi stiamo immaginando che l'economia circolare non è solamente in professioni con un altissimo livello di conoscenza, un altissimo livello tecnico, ma invece è anche nelle professioni, e soprattutto viene cercato dalle aziende, anche in professioni che sono, che richiedono anche un livello scolastico molto più basso. Questo non significa che non bisogna approfondire e specializzarsi, ma anzi, è uno stimolo proprio nell'ottica dell'inclusione a portarsi dietro, proprio rispetto ai temi dell'economia circolare, tutte quelle professionalità che convenzionalmente non sono riferibili a quel mondo. Quindi, ecco, sì, assolutamente è valore aggiunto sul territorio, può rappresentare, può e deve rappresentare un'opportunità. Considerate che l'80% delle imprese che noi abbiamo intervistato proprio nell'ambito del progetto ECCO, ci dicono che per loro la conoscenza dell'ambiente, quindi le conoscenze green e le competenze green sono più importanti proprio a livello percentuale di quelle digitali. Quindi, anche se viviamo nell'era del digitale, le competenze verdi sono reputate molto più importanti. Forse anche perché dietro alle competenze verdi c'è anche una questione di risparmio delle risorse, perché, come voi sapete, se si pratica il risparmio energetico, per esempio a casa, si ottengono dei benefici economici. Ecco, in azienda funziona così, o anche nelle piccole imprese. Quindi, l'economia circolare, l'economia civile, praticare queste nuove forme di economia sicuramente aiuta a rilanciare un territorio o comunque lo potenzia, proprio nell'ottica della crescita sostenibile. Grazie ancora. Allora, andiamo avanti con Federico. Buonasera. Allora, le volevo chiedere cos'è il modello A8R. Allora, guarda, il modello A8R è un modello che abbiamo creato proprio grazie al progetto Eco, proprio nell'ambito del progetto Eco, che è un modello che sostanzialmente va oltre il concetto del rifiuto. Quindi, se voi probabilmente avete partecipato anche a progetti legati all'ambiente, qualcuno vi ha raccontato delle quattro R dei rifiuti, che sono ridurre, riparare, riusare e riciclare. Ecco, noi a queste quattro R, che sono le R che chi lavora in lega ambiente o chi fa educazione ambientale in lega ambiente conosce alla perfezione, e ne abbiamo aggiunte altre quattro che stanno per rigenerare spazi e persone, proprio nell'ottica dell'inclusione circolare che vi raccontavo prima, ripensare, quindi ripensare sia i rifiuti, sia le fragilità come risorse e non come qualcosa di cui vergognarsi, riabilitare, proprio per far sì che le persone possano essere incluse e magari risolvere anche delle problematiche legate alle fragilità di cui parlavamo prima, per ripartire, ovvero ripartire dalla cittadinanza attiva e magari ripartire qualora durante la propria vita si trovino difficoltà, se siano trovate difficoltà che magari impediscono a una persona di ricollocarsi nel mondo del lavoro, di orientarsi rispetto al proprio percorso universitario, al proprio percorso scolastico. Insomma, la ripartenza è in un'ottica molto ampia, quindi fare in modo che si possano avere delle opportunità di crescita anche personali, anche se si sono vissuti dei momenti un po' bui di fragilità, quindi questo, dietro a queste quattro R che abbiamo aggiunto, quindi arriviamo a un modello a otto R, c'è questo tipo di sguardo, diciamo, abbiamo utilizzato occhiali nuovi per rivedere anche le R dell'economia circolare. Vai Raffaella con la prossima. Buonasera, io le volevo chiedere se ci poteva raccontare il coinvolgimento delle scuole appunto in questo progetto. Come no, in questo progetto abbiamo coinvolto scuole ma soprattutto insegnanti, quindi di conseguenza coinvolgendo insegnanti abbiamo coinvolto anche gli studenti, le scuole in generale, per una formazione che in questo momento è in corso, è la seconda edizione della stessa formazione che abbiamo già realizzato in passato dove gli insegnanti sono stati incuriositi proprio grazie a dei materiali che abbiamo caricato su una piattaforma del Ministero, sono stati incuriositi rispetto ai temi dell'economia circolare e dell'economia civile e poi hanno trasferito le loro conoscenze all'interno delle classi quindi coinvolgendo i ragazzi anche nella creazione di veri e propri poli di economia circolare in giro per l'Italia quindi i ragazzi sono stati attivamente coinvolti anche nella creazione per esempio visto che stiamo parlando di economia e voi siete un istituto che in qualche modo guarda al futuro con questo sguardo sono stati coinvolti anche per esempio nella stesura di piccoli progetti legati a delle start-up innovative ecco quindi coinvolgiamo le scuole le scuole in questo momento sono coinvolte proprio grazie all'applicazione all'impegno di insegnanti che sostengono la nostra idea di economia circolare quindi parlarne con voi ha ancora ancora più senso quindi si possono fare cose insieme anzi spero che questo sia l'inizio di di una collaborazione proprio con voi quindi con gli insegnanti sì ma è ancora più sfizioso farlo con giovani della vostra età quindi sono a disposizione lasciamo la parola ad Angela vai Angela allora buonasera volevo chiederle quali vorrebbero essere le modalità di realizzazione di questo progetto considerando il periodo delicato che stiamo vivendo intanto sicuramente online mi viene in mente che dobbiamo necessariamente immaginare delle modalità per coinvolgere la cittadinanza a partire proprio da uno schermo è molto difficile perché non vi nascondo che questo progetto nasce per coinvolgere anche fisicamente le persone attraverso laboratori escursioni attività di cittadinanza attiva di pulizia tutto quello che generalmente le cambiante fa sui territori in questo momento anche noi siamo costretti a fare l'ambientalismo a distanza un po' come la didattica a distanza ma pratichiamo il volontariato a distanza e ci dobbiamo necessariamente attenere a questo che è l'unico strumento che da una parte ci sta costringendo a un isolamento più relazionare però dall'altra parte ci sta aiutando ad affinare le conoscenze in ambito informatico ad abituarci un po' a quello che potrebbe essere un futuro sempre più a contatto con il web quindi sicuramente il progetto è passato molto online poi se rimarremo in contatto e se vi farà piacere sarò felice di invitarvi anche a delle conversazioni e degli approfondimenti sui temi che stiamo seguendo naturalmente online quindi devo dire che la cosa positiva anche perché bisogna sempre trovare il rovescio della medaglia la cosa positiva che sta accadendo in questo momento è che magari persone che non sono abituate a stare davanti a un computer hanno dovuto necessariamente imparare di più e dall'altra parte che si riescono ad accorciare le distanze pensate che io per il progetto adesso riesco a conversare quasi quotidianamente con persone che sono a centinaia di chilometri da me quindi un piccolo risvolto positivo c'è poi mancano gli abbracci e manca il fatto di intervenire sui territori in maniera insomma molto evidente quindi sporcandosi le mani ecco io non sono non amo indossare la camicia e il maglioncino starmene davanti a un computer ma amo piuttosto mettere la maglia gialla di lega ambiente che è terribile perché è un colore che sta male a tutti però ecco mi piace molto sporcarmi le mani andare con la zappa andare a pulire parchi strade città insieme ad altre persone motivate come me ecco sicuramente torneremo a farlo presto quindi armatevi di guanti così riusciamo a portarci avanti per adesso è tutto online ma sicuramente riprenderemo anche il via rispetto alle attività in presenza sono sicuro che succederà presto speriamo un po' tutti a te buonasera le volevo chiedere quali fossero i requisiti che ricercate negli studenti che volete coinvolgere essere fighissimi fighissime cioè essere un sacco essere niente avere delle caratteristiche molto molto cioè di volontà soprattutto voglia di crescere anche rispetto a questi temi che sono importanti rappresentano un po' il futuro per voi questo non lo dico perché sono un sono radicale nella mia visione ma perché effettivamente proprio grazie al progetto sto informandomi di più quindi sto cercando di capire quali sono le opportunità del futuro quindi visto che ce ne sono ce ne sono molte il requisito essenziale è la curiosità ma questo è un requisito che credo occorra a chiunque per vivere più positivamente qualunque esperienza io a scuola notoriamente mi annoiavo perché non riuscivo a sentirmi incuriosito a sufficienza ecco ho capito a distanza di tempo che effettivamente il primo che doveva metterci un po' di curiosità ero io quindi tornassi indietro sicuramente viverei con meno shock anche l'esperienza l'esperienza scolastica vi assicuro che che la curiosità è proprio la componente fondamentale per per riuscire a combinare qualcosa di buono quindi ecco credo che questo sia il requisito fondamentale anche un po' di pazzia questo questo sì visto che si parla si parla di come mettersi in gioco ecco un po' di incoscienza questo l'ho imparato anche praticando la lega ambiente perché quella quella piccola dose di incoscienza mettiamola così forse è il termine più adatto ci vuole soprattutto di questi tempi andiamo avanti con Giada niente è fuggita Giada vabbè gliela faccio la domanda di Giada in che modo questo progetto può essere utile al nostro abbiamo un problema Maria Teresa scusami mi chiedevano le ragazze sono disperate perché in realtà non riescono a sentire né Dalila a questo punto neanche Giada sì scuso sono anche un po' disperate poverine che volevano fare la domanda quindi magari ecco a questo punto la farai tu per loro e ci scusiamo con Alessio e con il pubblico che stanno aspettando allora in che modo questo progetto può essere utile al nostro percorso di studi allora un po' per quello che dicevamo anche prima perché credo che nel cioè credo che non sia così convenzionale per quello parlavo di un po' di incoscienza e di una visione anche un po' fuori dagli schemi non credo che sia che capiti tutti i giorni di praticare i temi dell'economia civile circolare in istituti come il vostro quindi credo che insomma sia sia molto utile al vostro percorso di studi perché vi può preparare limitatamente a quel che si può fare naturalmente perché nessuno ha la bacchetta magica però vi può preparare ad affrontare delle tematiche che fuori sono altamente qualificanti quindi credo che comprendere avere un'infarinatura quantomeno di queste tematiche rispetto a queste tematiche quindi l'economia civile circolare ma anche in generale la sostenibilità ambientale la cittadinanza attiva vi consenta vi possa consentire una volta usciti da scuola di avere delle caratteristiche in più quantomeno sviluppare le cosiddette soft skills non so se ne avete mai sentito parlare che sono quelle caratteristiche quelle competenze che vanno al di là del vostro curriculum di studi ma sono magari quelle competenze che avete che possedete proprio per curiosità la curiosità di cui parlavamo prima che nel mondo del lavoro funzionano molto quindi anche una passione può tranquillamente trasformarsi in una stelletta se vogliamo chiamarla così all'interno del vostro curriculum quindi il fatto di conoscere queste tematiche magari a livello sperimentale per immaginare degli scenari che possono coinvolgervi rappresenta assolutamente un valore aggiunto molto spesso ci capita anche all'interno dell'associazione di selezionare delle persone per dei tirocini per degli stage o anche per delle posizioni lavorative che si aprono in lega ambiente ecco devo dire che le caratteristiche che alcune caratteristiche magari anche rispetto a delle esperienze di volontariato o a degli approfondimenti legati all'economia civile circolare l'economia sociale in generale ecco possono fare veramente la differenza quindi credo che sia utile trasferire all'interno del vostro percorso di studi questo tipo di tematica proprio per per garantirvi delle delle caratteristiche che vi possono possono risultare vincenti una volta uscite da scuola o da un percorso accademico che mi auguro farete al termine del ciclo alle superiori quindi sicuramente può essere utile perfetto allora per concludere l'ultima domanda vogliamo sapere in che modo un diplomato nell'istituto economico può essere utile a questo progetto intanto per aiutarci a crescere un po' a noi perché siamo fuori da un istituto come il vostro e quindi credo che all'interno di questo progetto servano anche energie nuove servano persone come voi che sono fresche di studi e magari hanno delle idee anche diverse rispetto alle nostre quindi nell'ottica dell'arricchimento credo sia importante circondarsi di persone che magari hanno meno esperienza in ambito lavorativo ma siano più come si dice in gergo un po' più sul pezzo e quindi magari conoscano anche degli strumenti ci possano suggerire degli strumenti che sono lontani da noi l'altro giorno parlavo con ragazzi forse anche più piccoli rispetto alla vostra età di TikTok che è uno strumento che sicuramente conoscete conoscete o di social media quindi di nuove forme in qualche modo di intrattenimento ecco questo per esempio questa è una soft skill cioè saper utilizzare TikTok per una persona che ha la mia età è una soft skill non è qualcosa di così astruso e lontano anche da quello che può servire nel mondo del lavoro ecco diciamo che sicuramente un diplomato o una diplomata possono aiutare molto ad aprire gli occhi l'importante è essere pronti ad ascoltare a cambiare un po' punto di vista e occhiali quindi sicuramente ci è utile proprio per interpretare il mondo per come lo si vive adesso è molto più difficile per per un adulto anche se siete adulti anche voi però è difficile per un adulto interpretare quello che succede con gli occhi di chi magari è un po' meno adulto quindi credo che ci sia molto da imparare da un diplomato o da una diplomata quindi è il motivo per cui sono felice di questo incontro e complimenti per la conduzione credo che abbiamo una futura leva quindi i prossimi incontri li modererai tu ti chiamerò sicuramente un diplomato una diplomata possono essere utili per moderare gli incontri di lega ambiente ecco questa è no davvero grazie mille per la tua unità e ringrazio anche i nostri docenti e tutti i ragazzi che hanno partecipato a questa intervista davvero grazie grazie a voi mi dispiace per quelli che non sono difficili grazie per venire ma sono un po' disperata nei prossimi incontri ne faremo alcuni anche fuori da questo evento senza problemi quindi ci rivedremo presto spero Alessio grazie grazie infinite perché veramente wow quante cose io non so se si usa ma io gli farei un applauso che dite perché è stato veramente molto molto bravo 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 non so se si usa in videoconferenza noi lo facciamo lo stesso ci hai fatto venire veramente voglia di partecipare a questa grande famiglia di cui parlavi e ci hai trasmesso già questa felicità di comunità nel dirci tante cose e secondo me questi nostri ragazzi possono diffondere un virus positivo che ne pensi per combattere tutto questo questa pandemia che ci troviamo oggi a combattere di tutt'altro genere ovviamente visto che siete in rete anche con altri istituti economici insomma invito loro a fare come il ramadù quindi credo che voi siate stati lungimiranti dico ai ragazzi che avete un corpo docenti che io avrei voluto perché effettivamente su certi temi è molto bello che si stiano applicando loro per per prime per primi quindi insomma spero che che anche gli altri istituti facciano seguano questa scia quindi vogliano informarsi di più su queste tematiche che credo veramente siano utili a chi fa un percorso come come quello di questi ragazzi belli divertenti che che mi sono trovato davanti oggi grazie Alessio ti porto i saluti anche della nostra dirigente scolastica la professoressa Anna Totaro ti ringraziamo veramente di cuore per questa interessantissima conferenza e arrivederci a presto io credo possiamo dircelo assolutamente la vostra discussione anche se insomma se volete date pure il mio indirizzo ai ragazzi per eventuali curiosità quindi grazie mille a voi e un abbraccio in bocca al lupo per tutto e tenete duro grazie Crepi ciao grazie 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 ragazzi grazie colleghi grazie a tutti